Un incidente molto grave è successo ieri, su una strada chiamata Via Poerino, vicino a Carmagnola, quasi al confine con Poerino. Due macchine, tutte e due Fiat Panda, e un camion si sono scontrati. Rosanna Gianoglio, una signora di 60 anni che viveva a Ceresole d'Alba, in provincia di Cuneo, è morta subito. Lei stava andando a trovare sua madre anziana e si trovava in una delle macchine coinvolte nell'incidente. Ci sono stati anche altri feriti, per fortuna nessuno in modo grave. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, la polizia locale per capire come sono andate le cose, e anche i vigili del fuoco da Carmagnola e da Torino-Lingotto. La strada è stata chiusa per un po' così che potessero aiutare le persone, portare via la signora e anche le macchine e il camion coinvolti. Scrivi un messaggio di condoglianze per la famiglia della povera donna. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime notizie.